benvenuti in questo nuovo video teoria garp il segreto di god valley e rocks di xebec o gibec come preferite vediamo garp anche di garp il suo passato da iro da eroe della marina anche se sembra assurdo questo video nella sua stesura quasi completa circa l'ottanta per cento diciamo una percentuale per dirla risale al giugno scorso quindi sono passati sette otto mesi a testimonianza di ciò trovate le varie live sul nostro canale in cui parlavamo già più riprese di questo tema molto molto importante ovviamente abbiamo poi riaperto il progetto del video per perfezionare alcune piccole parti alla luce dei nuovi avvenimenti gli ultimi capitoli gli ultimi avvenimenti che non hanno fatto altro che avvalorare le nostre teorie le nostre narrative tutto ciò che noi tra poco vi diremo quindi mettetevi comodi e anche comode iscrivetevi attivate la campanella e non perdetevi nemmeno un minuto di questo video ovviamente recuperate il video su a kaino è la vera forza della marina un video teoria per il futuro che sarà almeno lo speriamo però tornando a noi come sapete garp è l'eroe della marina l'uomo che rivaleggiava con roger si contrapponeva ai pirati più forti quelli di altissimo livello all'epoca infatti è anche interessante notare che dopo la morte di roger per un certo periodo garp abbia dato del filo della torcere a big mamma che fu la sua rivale per diversi anni ciò venne specificato nel data book rivals o rivals come preferite lì viene riportata ovviamente anche quella che fu la breve faida con don gingiao lo conoscete voi l'abbiamo visto no la virgolette address rosa contro rufi eccetera eccetera adesso fanno insieme ai nipoti fanno parte della flotta di rufi quindi non approfondiamo ulteriormente questo tema però per arrivare poi alla nostra teoria su garpe god valley bisogna fare un piccolo focus perché per forza di cose dobbiamo immergerci nel passato e lo faremo con l'ausilio dei nostri vecchi commentoni come dei vari piccoli pezzi di un puzzle che si uniscono man mano creando quello che è un pezzo unico infatti noi per l'appunto parliamo di garp come buon risolutore ed esplicatore di tali flashback e della verità o da adesso inserendo teach da quel espediente narrativo tra virgolette dell'avimento di cobi ci dè il pezzo che ci mancava per poter collegare tutto i capitoli chiave sono tre i 956 957 e soprattutto in 1049 nel capitolo 956 e nel capitolo 957 rispettivamente big news e ultimatum ci sono delle info molto importanti infatti vediamo garp vediamo big news morgan vediamo lo scegliamento della flotta dei set la questione del governo la cp0 vediamo la questione di garpa soprattutto per quanto concerne il capitolo 957 quando seggogu inizia a parlare con gli altri marini quelli più giovani che tra i quali praticamente quasi tutti non sapevano della storia di god valley infatti lì sengoku narrò la questione della battaglia in cui appunto poi garp dopo ciò divenne l'eroe della marina però per il fatto che non gli piace non gli piaceva parlare di ciò di questo titolo per la questione che lì dovette allearsi col gol di roger per combattere altri pirati e lo fece per salvare i draghi celesti e ovviamente i loro schiavi le persone tra virgolette che c'erano lì che potevano essere in qualche modo innocenti perché noi sappiamo che garp non ha mai voluto accettare l'upgrade della carica d'ammiraggio per non rispondere appunto direttamente dei draghi celesti ovviamente in quella che fu quella battaglia che narrò in parte sengoku appunto si era alleato garp con un pirata perché gol di roger quello era e aveva battagliato smantellando la turma più pericolosa del mondo lì 38 anni fa questo poi diciamo è stato in un qualche modo oscurato infatti nessuno sa di gibe xebec nessuno sa di questa pericolosità però sengoku fa un piccolo recap per i nuovi marine appunto finché poi non arrivò a kaino si parla delle taglie degli imperatori di roger di new get e queste altre cose qui ma il focus deve rimanere sul fatto che quella battaglia vede come testimonia appunto garp che era proprio colui che ne prese diciamo possesso e fece quello che doveva fare vincendo e passando al vaglio del mondo come l'eroe della marina che tutti oggi conosciamo questa è la motivazione principale per il quale flashback di rox e di god valley potesse avvenire attraverso gap ma nel capitolo 1049 abbiamo la prova finale nel senso che tutti più o meno si aspettavano che attraverso il flashback di kaido avvenisse un approfondimento sui pirati rox invece in quel flashback che avvenne ci fu una piccola parte sui rox vediamo anche big man giovane eccetera eccetera ma più che altro oda si era fermato su kaido sulla sua caratterizzazione su una parte della sua vita su una parte del trattamento che gli venne riservato dal suo diciamo paese di appartenenza e così via sulla sua crescita vediamo anche new gate no grandissimo pirata vediamo un po alcune fattispecie però alla fine di god valley di g bec se bec e altro vediamo veramente ben poco e quindi flashback di kaido non ha dato le risposte che tutti volevano per quanto concerne i pirati rox è qui che si rafforza ancora di più la nostra teoria e prende corpo il fatto che garp sia veramente colui che potrà esplicare tutto ciò ovviamente adesso passiamo al presente però vi consiglio di recuperare i video su teach dove spieghiamo tutti i legami cox e bec l'emulazione dei comportamenti l'emulazione dei nome delle zattere il fatto di voler prendere possesso dell'isola tutte quelle cose lì prendete su kaido anche perché lui comunque ha avuto anche dei flashback indiretti no attraverso yamato attraverso king attraverso roci attraverso oden e così via per la questione di jean boy big mama l'abbiamo vista già abbiamo avuto anche flashback abbastanza corposo per lei quindi adesso immergiamoci nel futuro tra virgolette infatti dopo questo necessario tuffo nel passato torniamo adesso al presente puntiamo a questo futuro che però si spiegherà anch'esso attraverso probabilmente dei flashback quindi un futuro che si immergerà nel passato incredibile come rosa la nostra idea quindi nacque appunto dopo aver esistito flashback di kaido perché vedendo che lì la questione dei rocks venne solo accennata ci venne da pensare immediatamente a moncaddy garp come testimone oculare dei fatti accaduti a god valley proprio perché lui prese parte a quella cruenta sanguinaria battaglia anche perché roger è morto newgate è morto xebec è morto kaido e big mama sono spariti o sono morti anche loro insomma vedremo ci rimane solo lui considerando che anche scicchi è stato diciamo tra virgolette presentato un po così a sprazzi ma non è pervenuto come detto noi ve lo dicemmo già nel capitolo 1049 ma molti erano contrari a ciò erano scettici garp quindi per noi è sicuramente il personaggio chiave che attraverso un suo flashback ci potrà narrare molte cose sia per ciò che concerne su grandi linee la battaglia vera e propria anche con roger anche con big ma anche con altri pirati potentissimi ma soprattutto questa di god valley la leggendaria battaglia il contesto in cui ciò potrebbe avvenire e che all'epoca non era ancora pervenuto che per noi tutti era ancora un po oscuro o quantomeno era un illazione pura oggi diciamo prende corpo perché oda ha ben pensato di inserire una motivazione molto valida a ciò ci riferiamo ovviamente al rapimento di gobi da parte di teach mettere in piedi tutto ciò è una motivazione più che valida per il nostro garp di regarsi lì all'isola dei pirati a cinose beive questo porterà molto probabilmente lo speriamo a flashback anche ovviamente se garp non dovesse incontrare teach ma dovesse solo regarsi su quell'isola lì quindi grazie a questo scontro diretto se garp dovesse beccare teach proprio lì allora flashback sarebbe perfetto in quel frangente infatti avremo l'ex isola di xebec teach che per vie traverse ha ereditato il modus operandi e non solo di xebec e quant'altro garp durante questa ipotetica battaglia potrebbe rievocare ciò che avvenne a god valley mostrandoci parte anche dell'antica battaglia e perché no darci o meno qualche conferma e merito forse proprio garp potrebbe darci altre info generali sui draghi celesti e sulla nascita del suo odio per loro ho ancora qualche info sul passato di teach e il suo legame con xebec anche se quelle lì quelle info potrebbero giocarsene durante la battaglia con rufi secondo noi il narrare il momento in cui garp divenne l'eroe della marina crediamo sia quasi un atto dovuto di oda nei confronti nostri cioè di tutti i fan dell'opera e quindi nello stesso momento darci qualche info in più sul leggendario pirata rocks inoltre tali info potrebbero venire a noi anche se questo futuro scontro non ci fosse cioè basta anche che garp si diriga l'isola di acinos recuperi copia ad esempio e quindi potrebbe raccontare a cobi a ermeppo se ci fosse anche lui di tale storia e di come lui sia diventato l'eroe anche se questa qua è un'altra opzione ovviamente questo per farvi capire che d'altronde anche se non dovesse trovare ticci lui arrivando lì ad acinos potrebbe spiegare dopo aver salvato cobi a cobi appunto e magari a me poi gli altri cosa era quello scontro cosa avvenne la nostalgia del suo passato da giovane marine potentissimo no poi per teach quando ci sarà lo scontro con rufi ci potrebbero essere altre spiegazioni ma ovviamente teach all'epoca aveva due anni perché god valley ci sarà 38 anni fa ticci ne ha 40 e quindi sicuramente non era parte dello scontro sicuramente non era un testimone oculare in tale senso gli elementi quindi ci sono tutti bisognerà solo capire se oda farà sì che questa teoria diventi un fatto all'interno del manga oppure no alla fine ci divertiamo insieme a tutti e tutte voi e perché no buttiamo fuori qualche altra verità ancor prima del magno come avete visto un video diverso no lasciata che sarà il flashback di garp dice adesso voi cosa ne pensate qui nei commenti se vi piacerebbe assistere a tale flashback oppure no mettete like iscrivetevi attivate la campanella ci sarà una battaglia anche fra garpe teach oppure no eventualmente chi la spunterà diteci un po tutto fate commentare forza ragazzi bisogna sempre dire solo la verità iscrivetevi e magari fate anche un commento perché no da sfogliatori quelli sono sempre ben accetti ragazzi me l'ho dimenticato di dirvi il diro il di got il più grande marine m'esistito di one piece monca e diga the legend